Takayuki Morimoto arriva, lo afferma il DG Graziano Strano che ha confermato che ci sono state delle problematiche. Abbiamo lavorato in sinergia con le autorità competenti e abbiamo risolto tutte le problematiche. L'iter è burocratico per il tesseramento e agli step finale. Quindi ci sono rassicurazioni dello stesso direttore generale dell'Acregas che tranquillizza l'ambiente biancazzurro. Intanto nei primi giorni del lancio della campagna abbonamenti si sta registrando un buon riscontro da parte di tutti i tifosi che hanno superato le prime 160 adesioni. Tra meno di una settimana, ricordiamo, il prossimo lunedì 24 luglio suonerà invece la donata di tutti i calciatori tesserati per l'inizio della preparazione. E cambiamo argomento, sempre parlando di calcio, martedì 25 luglio nel foyer del Teatro Pirantello di Agrigento, la FIGC premerà tutte le società agrigentine che hanno vinto i campionati e tornei provinciali. Ci sarà la presenza del presidente della LND Sicilia, Sandro Margana, del presidente onorario Santino Lopristi, del coordinatore regionale del settore scolastico Stefano Valenti, del presidente provinciale Angelo Caramanno e di tutti i componenti della delegazione di Agrigento. Ciao ragazzi, sono Gianluca Litteri e volevo dirvi che è un mio dolore di iniziare questa splendida avventura. Ci vediamo allo stadio e fa stare un attimo.